Abbiamo visto finalmente doveva finire la carta che ricicliamo E poi è stato divertente, è vero giocare? E' stato emozionante, ci siamo portati un po' di carta a casa Riusa Riciclo Rutilizza La carta Ricicliamo! Ho visto tanta plastica Io che tolgo anche la parte di plastica dell'incarto del pane Mi rendo conto che forse il lavoro lo faccio per bene In concreto oggi stiamo sperimentando cosa significa fare iniziative utili per l'ambiente di sostenibilità Ho scoperto un mondo perché parliamo sempre di riciclo della carta però in realtà non sappiamo veramente quello che poi succede Un grande momento sul territorio per testimoniare la dimensione globale della carta La farà perché ha un tessuto di imprenditori come abbiamo visto oggi qui in questa impresa cartaria Imprenditori che in qualsiasi situazione di mercato se la sanno cavare, che creano lavoro, che creano ricchezza Vedere tutti questi rifiuti frutto della nostra produzione ci ha fatto riflettere su quanto possiamo migliorare proprio nella differenziata Molta organizzazione, apparati tecnologici nuovi Tutti i passaggi del processo produttivo, anche lo scarto della plastica, la tanta differenziata errata che si fa Le persone dovrebbero poter frequentare questi luoghi di lavoro che sono anche educativi e non c'è soltanto l'inquinamento, i costi C'è anche dell'altro per il futuro di tutti, per le nuove generazioni L'obiettivo era far vedere ai bambini tutto il giro che fa la carta che buttiamo nel nostro secchio Esce da casa quando il secchio è grande, però poi fa veramente un percorso importante Quello che succede in questa azienda è veramente interessante La prossima anno La prossima anno